Il comune di Pesaro a partire dal mese di settembre ha previsto una serie di interventi di asfaltatura per 1.300.000 euro. Diverse le sistemazioni della pavimentazione stradale avviate e completate in queste settimane. Da via Passeri a via Lombroso, dalla Panoramica a via Togliatti e via Solferino. Ma nonostante queste operazioni sono ancora diverse le vie che necessitano di provvedimenti immediati. Via Mancini è una di queste e a segnalarcelo sono stati alcuni residenti che in questi giorni ci hanno contattato riportandoci il problema. Problema di asfaltature di buche presenti lungo la parte più a nord della via, che a detta di alcuni abitanti che vivono in quella zona da 26 anni, in tutto questo periodo tranne qualche toppa non si sono mai visti i lavori di catramatura. Una situazione che riguarda non solo la strada, frequentata ogni giorno da centinaia di macchine e motorini, ma anche il marciapiede a fianco del parco giochi. Muretto per larghi tratti inesistente e pavimentazione disconnessa che potrebbe rappresentare qualche scomodità per chi lo percorre, inclusi i bambini che frequentano il parco. Pericolo rappresentato anche dalla stessa strada. Infatti, tempo fa, una residente anziana, per raggiungere la sua abitazione, appoggiando male il piede, ha subito una distorsione alla caviglia. Testimonianza che si è stesa anche per quanto riguarda il motivo dei mancati lavori di manutenzione in questi anni. Sarebbero stati continuamente rinviati a causa di alcuni lavori mai avviati delle fugnature pubbliche sottostanti a via Mancini. Il mancato completamento di questo intervento avrebbe di conseguenza causato un ritardo di diversi anni per l'asfaltatura che via Mancini necessita e che non può più aspettare, compresi i residenti.